Siamo in diretta, siamo quasi, ancora devo taggare, però siamo già in diretta, ecco fatto. Invitiamo i membri, i amici, basta questi membri mi sono rottati, non farete per nessuno. Invitiamo tutti gli amici del gruppo a partecipare. Invitiamo tutti gli amici. allora buonasera buonasera questa è una serata un po' speciale particolare nel senso che domani tranquillamente andrà al solito orario le 22 la trasmissione chiamiamola così la puntata normale la puntata la facebook un blocco lungo ma allora questa dicevo è una serata particolare perché è la serata dell'estrazione però è preceduta dalla spiegazione dalla spiegazione approfittiamo dei blocchi per fare la spiegazione per cui perché da domenica prossima partirà il gioco chiamiamolo gioco grande concorso senza premi completamente che si chiama poesie senza frontiere poesie senza frontiere poesie come? 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 traduco nelle varie lingue cioè cosa consiste questo gioco che faremo insieme? ogni volta che c'è una trasmissione ci sarà una squadra di poeti e noi estraiamo e avremo infatti sei squadre di poeti che siete voi e ogni poeta avrà a disposizione tre poesie no? per cui noi leggeremo tre poesie di ogni poeta ogni squadra è composta? ogni squadra è composta da quattro poeti quindi per quattro dodici dodici poesie dei nostri amici in gara più quattro poesie di poeti famosi celebri che come tu avrai il tuo Neruda io avrò il mio Bukowski eccetera per diciamo così per rafforzare la puntata un Rave un Palazzeschi insomma quello che è cosa succede? succede quindi che ogni settimana ci saranno due squadre perché sono uno, due, tre, quattro, cinque sei squadre quindi sei squadre significa due settimane no tre settimane tre settimane ogni puntata una squadra chi vince vincerà alla fine la squadra che avrà totalizzato più visualizzazioni quindi e quando? in quanto tempo? in tre giorni per esempio le puntate di un mese fa ancora continuano a guardarle no 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 abbiamo ognuno ogni squadra a disposizione tre giorni dopo tre giorni quindi la puntata di mercoledì si può votare mercoledì giovedì e venerdì fino alle 22 esatto a quel punto noi scriviamo e stop poi la puntata di domenica e il notario? conferma conferma sempre la puntata di domenica sarà votata domenica domedì e martedì stop e quindi direi il risultato di mercoledì quindi poi vediamo le visualizzazioni alla fine dopo queste tre settimane vedremo qual è la puntata che ha avuto maggiore visualizzazione quindi qual è la squadra di poeti che avrà vinto diciamo vinto questa questa gara dice Francesco la rosa ma che ha detto ma che ha detto qua c'è un puntino non so che significa io devo mancare questo puntino fai saltare Francesco la rosa non niente approvo Giuliano Finesti non so che sia va bene va bene approvato Giuliano Finesti ciao Francesco ogni settimana quattro poeti ogni poeta tre poesie ed è una squadra più quattro di misti perciò avremo una settimana avremo la squadra dei Pasolini quindi noi abbiamo 24 poeti in gara sì abbiamo 24 6 squadre da quattro poeti l'uno e le squadre sono la squadra dei Pasolini la squadra dei Leopardi la squadra dei Martinetti Martinetti i Pascoli i Carducci e i Ungaretti perfetto ora vedremo quali sono gli accoppiamenti e allora il notaio conferma il notaio conferma peschiamo peschiamo le prime quattro estratti partecipano alla squadra dei Pasolini i Pasolini scrivi i Pasolini devi fare lo scritto i Pasolini devi fare vedere che apri il bigliettino eccolo qua eccolo qua apri il bigliettino però secondo me bigliettino voilà Balducci sì va bene Balducci al contrario Balducci ecco Balducci siamo molto più al contrario va bene Balducci quindi il notaio conferma Balducci Balducci è nei Pasolini mettiamoli qua la prima la prima andiamo alla seconda la seconda la seconda squadra o sempre di la Pasolini no sempre i Pasolini chi sono i Pasolini i Pasolini e allora allora Balducci Balducci Spallino Spallino quindi Balducci e Spallino sono insieme quindi tre poesie in uno tre della Balducci tre della Spallino questo è Giallombardo Giovanni Giallombardo quindi Giallombardo entra nei Pasolini ma non mi devo scrivere lo aspetta li metto qua poi li scriviamo tutti assieme e appoggio qua sopra da soli Balducci Spallino Giallombardo questo è uno 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 Balducci uno io Spallino Omodeo sale Omodeo sale 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 Omodeo sale Omodeo sale quindi la squadra dei Pasolini che parteciperà la prossima domenica è formata da Balducci Spallino Giallombardo e Omodeo sale passiamo alla seconda la seconda squadra la seconda squadra che è i Leopardi i Leopardi i Leopardi Degli Innocenti Francesco Degli Innocenti Degli Innocenti Degli Innocenti Degli Innocenti Degli Innocenti Pagli Degli Innocenti vai avanti Leo Pagli mettimelo qua se non per voi Degli Innocenti Degli Innocenti Ferrante l'avvocato Claudio Ferrante oh mi raccomando voi fate il passaparola perché alcuni magari non sono collegati noi domani durante la trasmissione lo ribadiremo questo concetto buonasera Ava ciao Patrizia Ciminello il terzo Luisa Penasa migliore 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 chi è? Frenchi vabbè le poesie le ha fatte non partecipare più Leopardi sono Leopardi Degli Innocenti Ferrante è migliore lo inviterò io a partecipare i nuovi perché sennò la squadra è penalizzata perché sono uno in meno l'ultimo ho voluto mettere tutti i poeti che hanno partecipato al libro e quelli nuovi anche l'ultimo è Gaspare Stassi quindi è la squadra dei Leopardi dei Leopardi è formata da degli Innocenti Ferrante Migliore e Stassi Leopardi allora passiamo alla squadra degli Ungaretti 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 aspetta aspetta un po' che mi mischia vabbè dai vediamo Ungaretti Ungaretti contro chi gioca la Juventus Carioti Luciana Carioti Luciana Carioti sono gli Ungaretti Mettiamoli qua Ungaretti aspetta questi li mettiamo qua no non li sto mischia non li sto mettendo per dire distrazione Carioti 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 Chiarello Chiarello Sara Chiarello Sara Chiarello è un Ungaretti Carioti Chiarello uno io uno io uno io uno io uno io ma no ma tu non lo devi aprire e lo apri e io ho una mano sola e vabbè e devo tenere l'urna balla guardate che bella urna Balla quindi Riccarda Balla Riccarda Balla è con Chiarello e Chiaroti negli Ungaretti Chiarello Chiarello è un Ungaretti chi è un Ungaretti si chiamano loro Chiarello 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 Balla Carioti è Riggio che non l'ho scritto è Riggio bravo mettilo qua così non ci confondiamo allora dobbiamo fare e già abbiamo Pasolini Ungaretti Leopardi andiamo ai Marinetti 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 chi sono questi magnifici quattro sono i Marinetti chi sono chi saranno i Marinetti sono Piccone Enza Providenza Piccone 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 San Vitale nei Marinetti mi raccomando Elisa che sei sola impegnati gli altri hanno tutti parenti amici Adragna 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 è l'ultimo della squadra numero imprecisato di carte no questo è un altro gioco mi vuole per il mercato in fiera Giuseppe Calega grande poeta e gran brava persona e allora restano restano i Pascoli e i Carducci ma è uscito il 22 non lo so chi sono questi qua e ora dovremmo fare la squadra dei non lo so Carducci Carducci e Carducci allora abbiamo Lofermo Barbara Lofermo attenta la palla e chiamo che non male immeschiamo un fine di citore come me attenta la palla e chiamo che non e vabbè sei scaduto scaduto letteralmente Carducci Aliotta 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 è stata con noi nel libro quindi abbiamo una cosa mentre il maestro scrive Aliotta Carducci sei poeti che abbiamo già nominato e quindi scelte inserito nelle squadre vogliono proporre poesie nuove che ce le mandino via messenger o a me o al maestro se non ricevemo niente prima dall'inizio della gara useremo le poesie del libro o quelle che comunque già abbiamo letto per chiarire forza questi sono i Carducci chi c'è ancora? Belfiore Belfiore Gian Gabriele Gian Gabriele non lo so ricordo bene Gian Gabriele sì Belfiore è un nuovo acquisto della compagnia di Aliotta oh io questo io te lo prendo e te lo do ti grazie che mi hai dato Aliotta lo fermo Belfiore Rossi Gian Paolo Rossi il musicista romano Gian Paolo Rossi dov'è dov'è non lo vedo lo vedo qua non lo vedo tra i nostri gli schese quasi ah qua c'è scritto c'è una di Luisa Panpenasa o è brasiliana chi è Luisa Panpenasa chi è Luisa Panpenasa in che squadra sono ma non ci sei lui sono Luisa Panpenasa non la conosciamo Luisa Panpenasa non è fra i nostri poeti sarà chiarella che hanno mandato le poesie almeno dunque ora abbiamo l'ultima squadra l'ultima squadra è quella dei Pascoli Pascoli in Fiore Pascoli in Fiore allora nei Pascoli c'è Mirabile Totò Mirabile Totò Mirabile è un museo Mirabile Mirabile la persona Mirabile ciao Sarina ciao Luisa Balducci Mirabile Mirabile Salvatore che poi c'è pure Tania Mirabile che però non Mirabile con Mirabile c'è Tanzillo Antonio Tanzillo Sonio Tanzillo da a te a te a te a te maestro maestro non stai attento no io so che questo è io questo è io io so che è di sucivo è sucivo però è di sucivo fammi scrivere scrivi ti ho messo da parte no poi ti fai confusione no no che confusione fammi scrivere che è meglio per gruppi allora Scelfo mia squadra Mirabile Tandillo e Scelfo Mirabile Tanzillo e Scelfo qua qua la qualità l'ultimo 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 abbiamo finito non ce l'ho più e quindi questo è per forza Nalbone Chiara Nalbone 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 bella fresca spettinata Gilda Napoli allora a questo punto ricapitoliamo tutte le squadre ogni squadra ha sei si sei vabbè quattro poeti sono sei squadre sono sei squadre ogni squadra quattro poeti tre poesie ogni poeta dice attraverso le nostre voci tre poesie incominciamo dalla squadra e come ce le dividiamo e va bene è a metà che si vuol dire ad esempio squadra numero uno la Pasolini la Pasolini c'è Pasolini Balducci Omodeo Sale Gial Lombardo e Spallino io mi prendo Balducci Omodeo tu ti prendi Gial Lombardo e Spallino e io invece potrei mettere sei film e alla fine Spallino che è a Palducci e a Palducci e a Palducci e a Palducci che mascolo ma per la Spallino va bene va bene si ricominciate dal capo no e allora ti rivedi la puntata Sarina che potremmo già abbiamo annoiato la prima squadra è formata da Balducci a Omodeo Sale Gial Lombardo e Spallino va bene poi la seconda squadra i Leopardi è formata da Sara Cherello ma quando mai mi viene confusione i Leopardi è questo ah i Leopardi no Sara non ci sei zitto la seconda squadra i Leopardi è formata da Francesco degli Innocenti detto anche il Bukowski di Lassur di Nonarte no Bukowski non so di Novara di Massa Carrara Claudio Ferrante Claudio Ferrante Stassi Gaspare Gaspare è migliore detto Francesco va bene ma anche Frenchi va bene la terza squadra che sono invece Iungaretti è formata da Chiarello Sara Chiarello ora si Riccarda Balla l'avvocato Riggio e Cariotti Luciana Cariotti Luciana Cariotti va bene ricordiamo questi sono Iungaretti poi andiamo aspetti un minuto e qua c'è una chiamata devo vedere ma sono così fatta io approvo Luisa Penasa che non conosco non so chi sia però approviamo la partecipazione Luisa mandaci non so chi mai letta Allora Carducci i Carducci chi sono i Carducci Aliotta Carducci Aliotta Lofermo Barbara Belfiore Gian Gabriele Rossi Gian Paolo va bene altra squadra 1,2,3,4 la quinta sono i Pascoli i Pascoli che sono Tansillo Datella Nalbone Chiara Scelpo Rita Mirabile Totò l'ultima squadra sono i Marinetti e sono Caleta Giuseppe San Vitale Carlo Picone Enzo e Providenza Adranio Vincenzo a questo punto questa confusione incredibile però è chiaro che la domenica prossima partiranno questi che non ancora non ha capito niente facendo capire una mazza quindi un attimo di riflessione ti metti un attimo inizione e riconinciamo da casa no si vabbè Sara Careno ti vedi la la volevo dire la inizione se ci piace la noi abbiamo la arrivi dalle 5 alle 10 volte Lucia Valducci mette cuoricini cose Lucia ha capito quindi Sara chiama Lucia e tu fa il pregare di vita allora dicevo domani domani in previsione normale da domenica partono queste poesie senza frontiere e partiremo con la prima squadra che è quella dei Pasolini abbiamo detto domani 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 ma scusa perché non possiamo sorteggiare pure con quale squadra ricomincia no dobbiamo fare le cose onetto confusione dove un altro sorteggio iniziamo dalla numero 1 allora Sara hai capito in quale squadra sei no risponde Giuliano Finessi inviato del poesia non avete conciato ma quando l'hai inviata queste poesie Giuliano Finessi io ho una poesia di Giuliano Finessi ma ne ho una sola ma quando ora da poco da poco alla prossima faremo partecipare alla prossima però vogliamo fare un altro libro no la 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 i poeti i poeti che sono entrati in questo primo sorteggio sono i poeti che già hanno partecipato alla lettura ai libri al primo libro di poesia che è uscito dell'ora di poesia e che quindi chiaramente hanno la precedenza perché già hanno pubblicato con noi abbiamo quelle richieste e che già hanno tantissime questi siccome già io vedo che ci sono due persone due amici Giuliano e Luisa che vorrebbero partecipare cominciamo con le sei squadre che abbiamo già fatto se nel frattempo si dovessero aggiungere altri due poeti in modo tale che con Giuliano e Luisa possiamo formare un'altra squadra benvengano facciamo sette facciamo i palazzeschi eventualmente allora c'è una squadra aperta c'è una squadra aperta che è quella dei palazzeschi in cui ho già metto palazzeschi palazzeschi penasa penasa si Luisa penasa penasa e l'altro finessi 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 scusate io non vi ho mai letto io finessi non vi ho letto ma no ma ne ho una non ne ho tre di finessi ne ho una comunque abbiamo i palazzeschi penasa finessi ne aspettiamo altri due faremo quindi un'altra un'ulteriore a limite potremmo aggiungere la spagnola è penalizzante perché non ci sono voti non ci sono eppure no 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 in ogni caso non ha importanza ricordiamo che la squadra che vince è quella che raggiunge più visualizzazioni quindi decidono le persone che seguono la trasmissione non decidiamo mettiamo G.B. White e Lord Byron ecco ricordando ricordando come funziona cioè che ogni computer e ogni telefono peconino è una visualizzazione cioè se voi fate più visualizzazioni con lo stesso computer no è sempre una che esce per cui i voti sono effetti le visualizzazioni sono effettivamente ancora un poeta che non abbiamo considerato in gara perché dovrebbe partecipare fa parte più dei nomi Pino Vizzini che è un poeta che scrive in lingua siciliana che ho letto io un paio di volte ora vediamo se il suo fratello è d'accordo a partecipare a questo non è importanza non è importanza facciamo una traduzione in più una, due, più non è importanza dicevo quindi ogni computer è una visualizzazione quindi se c'è qualcuno che dice ora io mi metto 5 voti non lo può fare perché è sempre una visualizzazione risulterà ogni profilo perché se io ho 5 profili faccio 5 voti vabbè dai c'è il profilo destro c'è il profilo di lato e mi sto parlando che c'è la barba se non mi riconosce il voto di voi ho inviato tre pulizie non me l'avete considerato come sono state le scelte ah no giuna finestra ce l'abbiamo detto colpa su colpa su abbiamo risolto abbiamo risolto il problema abbiamo risolto il problema finestra abbiamo finito io sono stato chiaro ti vuoi mettere in piedi ti giri quella della magliettina della latte così il nostro bbm a Palermo c'è un tifoso della latte bb bianca e basta per il resto ecco per chi per chi per chi per chi no curva nord va bene allora siamo stati chiari si vero Sara siamo stati chiarelli non lo so non ha più scritto Sara Chiarelli ora Sara ora dai commenti capiremo chi ha capito e chi non ha capito comunque adesso scriveremo in sede di commenti i nomi delle squadre stiamo attenti lo dico anche non c'è un premio non c'è una giuria la giuria siete voi no no come è fatto la giuria siete voi la giuria siete voi dicevo già noi abbiamo fatto una cosa del genere con le poesie più lette più ascoltate l'abbiamo fatto quest'estate eccetera vabbè la più poesia no cosa più divertente è più gioco e no non c'è non c'è la lotta non esistono è un gioco cioè ci divertiamo enormemente ed è un modo perché le squadre vediamo abbastanza omogenee no sono omogenee ed è una cosa importante che i poeti fra di loro incominciano che già molti sono diventati amici non si conoscevano assolutamente grazie a questa tradizione non è che ora litigano perché abbiamo messo in scuola di essere no grazie a questa tradizione io mi ricordo quando Bibi era piccolo ed era scattissimo a giocare a pallone portava la palla a lui portava la palla a lui e appena non ci affattava ti portava la palla e non gioco più e si finiva di giocare no no mi chiamavano il carlaschelli carlaschelli io giocavo a destra isabelli no 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 il carlaschelli mi chiamavano anche se giocavo non come alamo ma come terzino allora si diceva terzino destino terzino volante terzino destino tornante tornante torna a casa a legge mi stancava a tornare in via va bene abbiamo accontentato lui abbiamo accontentato tutti quanti allora fatto il sorteggio l'ora è fuggita e il muoio disperato basta se qualcuno ha le volete ci spidiamo attraverso la di poesia ma che è chiariamo l'appuntamento è serio domani indizio per domani è vero con i nostri poeti con la consueta puntata del mercoledì nel frattempo telefonatevi legate fra di voi siete squadra fate squadra e fate squadra ecco va bene finito posso chiudere posso chiudere Bibi Bianca e Giorgio Barone vi saluto